Oh mio Dio, la nostra Yuko ha detto che preferisce la peschina E ragazzi abbiamo anche la crema a pan di stelle Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video Questo è un nuovo video in cui facciamo provare a delle giapponesi dei prodotti italiani E faremo provare anche la peschina che ci sarà la rivincita dello scorso video Quindi vi presento Yuka che è la mia cameraman, avrete visto sicuramente, era anche nella puntata precedente E poi Yuko che è la new entry di oggi che avete visto nel mio viaggio a Kyushu Della serie Hashtag Peschine, adesso facciamo assaggiare a Yuka e Yuko due buonissime peschine Gli altri avete mito? Ah, e dozo Buon appetito Buon appetito Pre시죠 Lui è seccata la nostra Yuko tan Rasa culus Credo che se fosse da 1 a 10 darebbe un 4 Ha detto che sarebbe stata molto più buona se non la teneremo in più Questa serve qualcosa da verci dietro Quanti punti dai? In questo momento, in questo momento, 2.000 2! Ah, col caffè dicono che sarebbe più buona, così insomma Sì, hanno detto che con questa serve assolutamente da bere Proviamo, facciamo assaggiare altre cose Questa è la cosa? 2. Kinder colazione più Itadakimasu Ah, questa è la caccia di caccia Ah, a Yuka è piaciuta E' la caccia di caccia di caccia Io mi piace questo Qual è la caccia di caccia? Caccia di caccia? Ah, non è la caccia di caccia Oh mio Dio La nostra Yuka ha detto che preferisce la peschina No, 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 no Perché era troppo buona Ah, ok Ha detto che alla peschina ha dato 2 perché era troppo buona Se fosse stata più fresca avrebbe dato più punti Ok 5 punti 5 punti Tu? 10 punti 10 punti E' una crema di nocciole E' una crema di nocciole Però anche per questo ci vuole il caffè Ci vorrebbe il caffè E' una crema di nocciole 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 Non è male C'è anche in Giappone mi hanno detto subito Anche il mio amico giapponese a casa ha detto che sembra la chocopai Ah però la chocopai sembra più la fiesta come sapore perché c'è più un gusto di alcol Ma anche con questa ci vorrebbe il caffè Nanten? Amaiので 8 ten gureかな 8 6 6 per Yuko e 8 per Yuka Andiamo avanti con la girella Carina anche secondo me Ankomaki Sembra un ankomaki Vi metto qui la foto Hai Ah ma bisogna mangiarla così Continuano a dire che sembra un dolce giapponese che si chiama chocopai Quale è buona? Che con il terreno è? La girella e la fiesta La girella e la kinder del lieste devo dire che hanno un gusto molto simile Ma prima volta è un dolce Che rispetto a quella di prima che sembrava Questa sembra più una torta l'altra invece sembrava più una merendina Mi ha detto ma aspetta ma tutte queste cose se possono comprare al supermercato le faccio sì Anche la peschina Sì e lei mi fa Ah io preferisco quella di pasticceria Pasticceria Non è bene Scusate Si scusa Che preferisce quella di pasticceria Vabbè Ragazzi così Questa è la nostra Yuko da 6 E Yuka da? 7 Era meglio il terreno di pasticceria Ma è un po' Ma è un po' Ma si assomigliano E ragazzi abbiamo anche la crema pan di stelle La nostra Yuko già se lo ricorda? Nutella mitana no? Nutella mitana Ma è un po' 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 Sì no? Ma è un po' Ma è un po' Ma è un po' Ah hai detto che ce li sono dentro i biscotti Togliamo Hai De un kofi Ah Saku 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 Vuol dire che è un po' Che ce li sono dentro dei biscotti Perché c'è Oicchio Buona? Umu cookie E? Ah Ah preferisce la crema La crema pan di stella Pan di stella Nante nagheru? Ha detto che gli da otto punti Te yuko ga? Nana Nana E per yuko invece sono sette punti Allora ragazzi questa è la classifica La nostra yuko preferisce tra tutti le peschine Come potete vedere Ichimatsuki E però il sapore Mentre la nostra yuko La sua preferita Era la Kinder colazione più Vabbè ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Abbiamo finalmente dato Una rivincita E una nuova occasione Alle peschine Grazie a tutti voi Che avete messo L'hashtag I love peschina E vabbè Seguite le nostre due donzelle Sul loro instagram Ve li lascio qui Ci vediamo alla prossima puntata Ciao ciao Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Shoebastiano Se la finì nei maggiori digital store